Noi ci sono proprio tutti, non è l'handicapato dei, però ci sono anche dei che... Ma che battuta di merda! Voglio esprimere la nostra profonda indignazione per la disgustosa battuta del Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri che al Family Day dello scorso sabato, rispondendo ad un giornalista delle Iene, ha esclamato Ma questo è il Family Day, non l'handicapato dei! A Maurizio! Ah, no ci sono proprio tutti! Oh, ma sputato! Family Day, non è l'handicapato dei! Ecco, l'utilizzo, peraltro fuori dal tempo, del termine handicappato come insulto è deplorevole e schifoso per qualsiasi cittadino, figuriamoci perché ha un ruolo pubblico Gasparri deve dimettersi dall'alta carica che ricopre e, direi, ritorarsi per sempre dalla politica Io, in quanto handicapato, avrò le mie disabilità ma le assicuro che sono capace di mandare il Vice Presidente del Senato a fanculo No, onorevole Dall'Osso, per favore Grazie Ma che battuta di merda!